È la settimana dell'umiltà, quella che per Gesù inizia con l'ingresso fastoso in Gerusalemme, perché le palme, trionfalmente agitate e gli osanna, si spengono presto, soffocati dal disprezzo dei capi e dalla gente, da loro sobillata. Una settimana resa ancora più dolorosa dall'abbandono dei suoi, dal tradimento di Giuda, perfino dal rinnegamento di Pietro, la roccia dei discepoli. Ma questa, ha affermato Papa Francesco all'Omelia della Messa Solenne della Domenica delle Palme, è la via di Dio, la via dell'umiltà, e non esiste umiltà senza umiliazione. Certo, ha detto Francesco alla grande folla in piazza San Pietro, c'è anche la strada contraria del maligno, quella della mondanità, offre vanità, orgoglio, successo, ma lo stile di Dio e del cristiano, ha ribadito, è quello di farsi servo e non finisce di metterci in crisi, perché a un Dio umile non ci si abitua mai. Il suo aiuto ci aiuta e ci conforta in questo l'esempio di tanti uomini e donne che nel silenzio e nel nascondimento ogni giorno rinunciano a se stessi per servire gli altri. Un parente malato, un anziano solo, una persona disabile, un senzatetto. Pensiamo anche all'umiliazione di quanti per il loro comportamento fedele al Vangelo sono discriminati e pagano di persone. E pensiamo ai nostri fratelli e sorelle perseguitati perché cristiani. I martiri di oggi ne sono tanti. All'Angelus, subito dopo la Messa, nel giorno della trentesima giornata mondiale della gioventù vissuta a livello diocesano, Francesco ha ricordato gli studenti tedeschi morti nel recente disastro aereo in Francia e ai giovani in vista della GMG di Cracovia 2016 ha detto lasciatevi riempire dalla tenerezza del padre per diffonderla intorno a voi.